questo è uno screenshot che l'esperto di questo mondo a me fa male pensare questo è l'estratto di un di un rendiconto mifid quindi o di un prospetto informativo di un investimento quindi vuol dire che c'è qualcuno che oggi sta pagando questi costi sul proprio investimento un misero 8% all'anno di costi che però se esci dopo 5 anni perché ovviamente è 8% all'anno e ti vincolo anche se però esci dopo 5 anni il costo scende ad un misero 5,6% ovviamente siamo ironici sono cifre da capogiro è come dire di pagare 10 euro un litro di benzina il terzo errore che commettono le persone non avere sotto controllo costi in questo caso in questo caso i costi i costi faccio questa cosa ma ok ma cosa mi costa accedere a questo possibilità di rendimento assolutamente a volte l'errore anche che tu vai in banca e dici io guarda non voglio rischiare io voglio mi piace molto ok loro non ti aiutano perché l'obiettivo è quello di darti quello che vuoi quindi ti dico ok quello che vogliono darti quello che vuoi cioè darti poco rischio ok ok si dal punto di vista del rischio e quindi ok allora prendi questo prodotto che è sicuro che ha solo anche solo un 3% di costi obbligazionari cioè poco rischio ti fanno prendere poco rischio con uno strumento che a me piace chiamare no non so se lo posso dire perché non voglio parlare di un brand che poi magari dopodomani mi denuncia presente quei bei surgelati con le paste i primi piatti pronti ok forse a 18 anni quando non volevo cucinare che ero a casa da solo prendevo quella roba lì ok si sa di carbonara ma non è una carbonara ok o sa del primo che vuoi mangiare vuoi scoprire quali sono i punti di forza e di debolezza della tua personale situazione finanziaria vuoi capire se stai concentrando energie sforti tempo sulle giuste priorità che ti permettono di creare un piano solido di crescita del tuo patrimonio se stai cercando chiarezza su questi temi non perdere l'opportunità di accedere al nostro servizio chiamato check up finanziario al 50% di sconto fino a domenica sera otterrai un'analisi approfondita della tua gestione finanziaria così da capire su cosa devi migliorare su cosa devi concentrarti per realizzare i tuoi obiettivi finanziari trovi tutti i dettagli di questa offerta nel link qui in basso o in descrizione di questo video quindi il tema è devi capire ok voglio investire ok voglio investire a basso rischio però se vado in certi contesti bancari devo stare attento perché c'è un conflitto di interesse quindi loro mi fanno pagare un servizio un costo molto elevato può arrivare a queste cifre cioè un 8% all'anno 8% all'anno è perdita certa cioè non esiste investimento obbligazionario anche a basso rischio che ti può dare un 8% all'anno oggi considerando che il risk free cioè il basso rischio il rischio inesistente quindi un titolo tripla con bassa volatilità rende renderà un 5 per un 5% negli Stati Uniti però è rischio cambio quindi c'è un rischio e in Europa saremo attorno al 2,5 o 3 una cosa simile è matematica che non guadagna questa è matematica qui è matematica che perdi ma anche non con questi costi magari in quelli più normali da banca questo è fantascientifico diciamo i costi bancari tipicamente possono andare tra l'1,5 e il 3% cose così cioè questo ordine di grandezza e lì magari fai pari ok quello che hai dentro al titolo al fondo o l'ET al fondo fondamentalmente prende il 3 lo strumento costa il 3 non ti aspettare di guadagnare però almeno fai pari ci stai dentro 10 anni poi dopo 10 anni ti chiedi sono sempre vengono persone da noi è 10 anni che investo in questo modo ma non vedo risultati come mai non avere sotto controllo i costi il punto non è pagare zero c'è sempre un costo associato soprattutto se tu non sai fare qualcosa deliga qualcuno che lo sappia fare per te forte però di una consapevolezza che devi allineare gli interessi questa persona deve avere un allineamento di interesse non ti deve vendere dei prodotti come invece sta facendo la banca in questo caso e due quindi se non lo sai fare verifica i costi dello strumento e compra un servizio che ti aiuti veramente qua non c'è neanche un servizio di consulenza associato basta poco per capire ma assolutamente queste sono competenze basiche basiche assolutamente di un servizio di di un servizio di